Da 50 anni di esperienza a stil bagno nasce Camer. Si è concluso un altro weekend calcistico ed eccoci quindi a risultati e classifiche del weekend. Appena concluso, sesta giornata del girone di andata per il campionato di promozione. Questi i risultati, Biassò, Nolgiate Aurora 1-0, Casati Calcio Arcore, Colico Derviese 1-0, Cavenago, Calolzio Corte 3-1, Concorezzese, Grant Arcadia 0-1, Galbiate Lissone 3-2, Missaglia Maresso, Arcellasco, Cittadierba 0-7, Nuova Sondrio, Costa Masnaga 6-1, Viberonchese, Speranza, Agrate 2-0. In classifica in prima posizione con 16 punti Arcellasco, Cittadierba e Casati Calcio Arcore. 14 Cavenago, 13 Nuova Sondrio, 12 Viberonchese e Biassòno, 9 Colico Derviese, 8 Calolzio Corte, 7 punti per Lissone e Costa Masnaga, 6 Galbiate, 5 Speranza Grate, 4, Grant Arcadia, 3 punti per Olgiate Aurora e Concorezzese, in fondo alla classifica, 2 punti Missaglia Maresso. Passiamo alla prima categoria, sesta giornata, Ars Rovagnate, Giovanile Canzese 3-2, Bellagina Grosio 0-2, Berbenno, Monvico 3-3, Cortenova, Albosaggia Ponchiera 4-2, Olimpic Morbegno, Sovico Calcio 4-1, Polisportiva 2B Triugese 2-0, Valmadrera, Lesmo 0-1 e Vercurago, Prolissone 2-2. In classifica, 13 punti per Lesmo e Giovanile Canzese, 12 Polisportiva 2B, 10 punti Valmadrera e Prolissone, a 9 troviamo Albosaggia Ponchiera, Vercurago, Monvico, Grosio, Bellagina, a 8 punti Cortenova e Ars Rovagnate, 7 per Triugese, 6 Olimpic Morbegno, 4 Berbenno, a 0 punti Sovico Calcio. Infine la seconda categoria, i risultati, Ardenno, Buglio, Dubino 1-1, Atletico Cosio, Penta, Piateda 1-2, Bormiese, Polisportiva Villa 1-0, Chiavennese, Talamonese 3-2, Delebbio, Tiranese 2-2, Valchiavenna, Cosio, Valtellino 1-3, Piantedo, Prata Calcio 2-2. La classifica in prima posizione Chiavennese con 13 punti, 12 Bormiese, 11 Dubino e Cosio, Valtellino, 9 Ardenno Buglio, 8 Piantedo, 7 Tiranese, 6 Penta, Piateda, 5 per Talamonese e Delebbio, 4 Valchiavenna, 2 Polisportiva Villa, 1 punto per Prata Calcio e Atletico Cosio. Ed è tutto, vi ricordo che trovate risultati e classifiche sul nostro sito web www.radiotsn.tv nell'area sport.